Un po' mi sono commosso, meno male non lo considero un arrivo, ma lo considero un trampolino di lancio per le prossime edizioni del calendario. Tanta emozione per Fulvio Bicego, il collezionista di arte è stato scelto per ricevere il premio Un gesto per la città in occasione della tradizionale festa a San Bassiano. Il prossimo mercoledì 19 gennaio verrà premiato per le importanti opere di beneficenza che è riuscito a portare a termine grazie alla vendita di calendari, il cui ricavato è stato devoluto interamente ad associazioni ed enti bassanesi. Quest'anno mi ero prefissati 100.000, ma la scorsa settimana li ho superati in 102.000. Adesso il prossimo obiettivo sarà 150.000. Tenace è determinato a contribuire al restauro di opere importantissime per la città di Bassano. Bicego dona lustro alla sua città e con l'umiltà che lo contraddistingue ha già in cantiere altri progetti per i prossimi mesi. Sto già lavorando per il 2023, sarà un calendario dal titolo Bassano e i suoi artisti, e cioè ho trovato pittori, scultori eccetera eccetera che realizzano un'opera per ogni mese.